Il titolo della mostra è In the name of gold, con la L tra parentesi non a caso, perché il senso di questo lavoro è raccontare come le persone che si uccidono, gli uomini che si uccidono, molto spesso non abbiano un'idea del potere che stanno servendo, né degli interessi che stanno servendo, sicché in queste immagini non ci sono vittime carnifici, ci sono vittime e basta, vittime della politica, delle politiche criminali dei nostri governi che in qualche modo stanno creando delle generazioni a sue fatte alla guerra e questo mi sembra un dato importante, mi sembra il dato importante che poi penso possa essere evidente, evidenziato dalla fotografia in cui ci sono questi bambini che oppongono un sorriso alla mitragliatrice pesante, puntata. Robert Fisk diceva che quando un uomo, una donna o un bambino smettono di avere paura della morte non c'è verso di fargliela tornare e credo che ci sia un rischio enorme, insito nel continuare a tollerare o a permettere che ci siano così tante guerre nel mondo, perché chi esporta la guerra finisce spesso per ritrovarsela in casa e molto spesso non è poi in grado di combatterla.